Più di 80 anni di storia, è una continua tendenza all'innovazione, questa è la storia di Deathless. La casa tedesca anche quest'anno non si smentisce e propone molte novità a partire dalla sua gamma d'accesso, i completamente rinnovati, profilati e mansardati Trend. La nuova gamma Trend conta su 6 modelli, 4 semi integrali e 2 mansardati, ai quali si aggiunge il Trend ST, versione particolare che richiama ancora linea e configurazione del modello della scorsa stagione. Le lunghezze sono comprese tra 653 e 741 cm e la meccanica univocamente adottata è quella del Fiat Ducato. In particolare per i semi integrali, disponibili immediatamente, mentre invece i mansardati lo saranno ad autunno inoltrato, è stato adottato il telaio ripassato CCS e una linea esterna e un interno completamente rinnovati. Da segnalare anche la componentistica che accompagna questi veicoli, particolarmente di rilievo, all'interno della quale si segnala la porta d'ingresso in versione extra large da 70 cm di larghezza. Tra le particolarità più significative d'appannaggio nei nuovi Trend, la possibilità di adottare, a richiesta, un letto basculante a comodo azionamento elettrico presente, secondo i modelli, in versione matrimoniale oppure singola. Dei 4 semi integrali, uno dei modelli più interessanti per il nostro mercato è senza dubbio il T6717 che, in una lunghezza contenuta in meno di 7 metri, presenta la zona notte con led di gemelli e la disponibilità di un grande gavone garage servito da due ampi portelli laterali simmetrici. L'interno si completa con toilette dotate di doccia integrata e separabile e una cucina che non rinuncia alla presenza del frigorifero grande da 142 litri, una dotazione questa, tra 4, che accomuna tutti i modelli della gamma. Ancora con zona notte configurata con letti singoli longitudinali, il T7057EB, grazie ai suoi 741 cm di lunghezza, sviluppa un abitacolo con ampio soggiorno dotato di dinetta L, divano laterale, cucina centrale e spaziore da toilette con ambienti dipendenti per zona bagno e box doccia. Mentre gli altri due modelli, siglati rispettivamente T7057 e T6757, si caratterizzano per la pianta con letto centrale in autico a tigola toilette passante, anche in questo caso configurata in ambienti dipendenti. La gamma Advantage, completamente rinnovata nel corso della passata stagione, è confermata in toto, così come confermato il nuovo immobilio opzionale in essenza scura, introdotto all'inizio dell'anno e ora caratterizzato anche dall'adozione adiante lucide. Tra le altre novità introdotte per la prossima stagione, la grafica esterna, la colorazione argento della cabina guida nei profilati e, in particolare, il parouti posteriore di nuovo design. Entra in gamma il nuovo modello, si tratta del 6651, coniugato, come tutto il resto della gamma, sia in versione profilata sia in quella integrale. In meno di 7 metri di lunghezza, presenta la zona notte posteriore con letto nautico centrale, toilette in ambienti dipendenti, cucina centrale con frigorifero da 142 litri e soggiorno con semi di net e strapuntino laterale. Collocata nella fascia medio-alta dell'offerta d'Ethlers, subito prima dei grandi integrali XLI e dei mansardate XXL, la gamma Esprit 2016 è stata oggetto di un completo rinnovamento. 4 modelli proposti, con lunghezze da 728 a 763 cm e disponibili sia in versione profilata sia in quella integrale. Si tratta del 6810 II e 7152 EB con letti gemelli e 7152 e 7150 II DBT con matrimoniale centrale posteriore. Questo primo modello, anche caratterizzato dal particolare sviluppo del bagno passante dotato di elegante specchiera centrale. Tutte le varianti sono allestite su meccanica Fiat Ducato con telaio alco e doppio pavimento tecnico da 125 cm. Esternamente e internamente sono molti i concetti mutuati direttamente dalla gamma superiore XLI come il design esterno, la cucina gourmet, la panca di netta rotondata, il sofisticato concetto di illuminazione interna e la porta cellula a larghezza maggiorata. Al grande numero di novità che Deters presenta per la nuova stagione manca ancora qualcosa, e cioè i profilati con basculante. Sono nuovi, arriveranno e saranno presentati in anteprima al salone di Dusseldorf e si chiamano 4Travel. Tre modelli, completamente innovativi, dotati di letto basculante longitudinale e lunghezze dai 7 metri ai 7,5 metri. L'appuntamento quindi è palafiere, estire, è autonale.